E' quello della polizia penitenziaria che ha tra le sue funzioni, come diceva l'onorevole Giorgi, quello di garantire la rieducazione del condannato. Purtroppo la rieducazione del condannato viene in genere sacrificato perché il compito prioritario, la funzione essenziale, l'urgenza, sembra essere solo esercitare quel controllo ed esercitare la repressione rispetto a qualunque autonomia dell'individuo. Allora l'opera da fare è una riforma gigantesca di natura culturale perché i poliziotti penitenziari sono persone, ovviamente come tutti noi, non sono un'organizzazione criminale. Professore la devo un attimo bloccare, mi scusi, vorrei dare un minuto a Jacopo Morrone della Lega perché poi dobbiamo andare in pubblicità e vedo pronto il collegamento con Palma. Morrone. Guardi, io mi dissozzo dalle parole di Manconi che a quanto pare non conosce gli agenti della polizia penitenziaria e non conosce gli istituti penitenziari. Sta macchiando servitori dello Stato e in questo momento non è quello che è necessario. I fatti sono accaduti in un contesto, si vada a far pagare, si vada a processare chi ha sbagliato, ma non si condannino i 40.000 uomini che lavorano ogni giorno all'interno di istituto penitenziario. Sono state dette in questa trasmissione, in questi pochi minuti, frasi per me inaccettabili. Conosco l'agente di polizia penitenziaria perché ho fatto il sottosegretario con delega alla polizia penitenziaria. Quel momento storico era un momento, che è bene ricordarlo, dove c'era stata una manifesta incapacità di governare le carceri da parte del governo, della loro ex ministra Bonafede e dei sottosegretari. Venivamo da un momento in cui c'erano oltre 100 agenti feriti, a seguito di 40 milioni di euro di danni fatti in oltre 20-25 istituti penitenziari, 13 detenuti morti. Era una guerra civile all'interno degli istituti penitenziari. Quello che sta accadendo sotto gli occhi di tutti è inaccettabile. Si vada a vedere chi ha sbagliato, si faccia prima un processo giudiziario e poi mediatico e si faccia pagare per le proprie colpe. Ma non si attacchino 40 mila uomini. Che gli dico un dato, dal 1 gennaio ad oggi all'interno degli istituti penitenziari ci sono state oltre 500 aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria. Non una parola a favore degli agenti di polizia penitenziaria. Giacomo Morrone, la devo interrompere, mi scusi, perché... Chi sbaglia deve pagare l'intero corpo di polizia penitenziaria, dove sono uomini e donne che escono la mattina a lavoro e non sanno se alla sera rientranno integri. Dobbiamo andare in pubblicità, se no passo dei guai io. Dopo di poter intervenire perché il tema è delicato e importante e si va a danneggiare un corpo di polizia al pari degli altri corpi che serve lo Stato ogni giorno. Chiarissimo. Dobbiamo andare in pubblicità e poi vi do collegato... Allora...